Buongiorno signori, venite avanti, non siete finiti! Prendete la vostra mano, prendetela in testa, anche l'altra, muovilo stessi così, guarda! Così! Così! Oh! E surf! Allora signorina, davvero pochissimo, che era uno show che c'è trova mai visto, Sherry per la night, che c'era tutto il roso a fare, che c'è tenso a ciò che è venire, tutti qua. Allora questa va così. Wow, Sherry! Una volta che non siete a conoscere bene, continuiamo la musica, che ho ricordo nel mattino, io ho capito, 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 io ho capito. Wow, we got the musica, che ho capito, io 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 ho capito. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.